4,3 milioni per l'ex cinema Eden, 3,4 per le scuole Nolli, 2,1 all'asilo Principessa di Piemonte, 3,3 per l'arci confraternita Santissimo Rosario, 2,2 per l'accessibilità in piazza Umberto, Trento e Trieste e altre vie, 2,4 per nuovi parcheggi e sottopasso stazione. E ancora per il super cinema 760.000 euro, 646.000 all'ex scuola Casone, 201 al nuovo parco urbano di Filippone e 592 per l'accessibilità agli ipogei della Chieti Sotterranea. Sindaco Ferrara, Assessore Rispoli e Dirigente Carlo Di Gregorio fanno il punto su progettualità e finanziamenti PNRR. Abbiamo rispettato il termine del 30 settembre firmando tutti quanti i contratti per le opere finanziate, ossia 20 milioni di euro per 10 interventi che riguardano l'intero territorio della città di Chieti, dalla parte bassa, dal centro storico e dalle periferie. 10 interventi che vanno a cambiare il volto della città, sia per quanto riguarda palazzi storici abbandonati da anni, ma sia soprattutto con interventi che vanno a migliorare la qualità della vita. Parlo ad esempio del nuovo parco all'interno della zona di Filippone, parlo dell'intervento della riqualificazione del palazzo Eden e Massangeli, dove di fatto noi andiamo a ridare la città con l'obiettivo di renderlo fruibile come uno spazio nuovo di arte moderna e di uno spazio collegato al Teatro Marruccino. Andiamo ad intervenire sulla scuola Ex Nolli, dove l'obiettivo dell'amministrazione è quello di ridarlo alla città di Chieti come scuola reale e tutti interventi che di fatto rivanno a rinvenzionare la città con nuovi servizi e con nuove prospettive future. I tempi, quelli scanditi dall'Europa, anno 2026, risultato anche di una capacità visionaria, l'ha definita il sindaco Ferrara, di immaginare la Chieti del futuro. Insieme agli altri progetti, cioè parlo della Via dei Conventi, del Pinqua, parlo degli interventi dello sport per quanto riguarda il cluster, sono tutti interventi che di fatto vanno oltre l'immaginazione e soprattutto hanno uno sviluppo futuro sia per quanto riguarda tutto il territorio, sia la parte bassa, il centro storico e le periferie.